e sale subito con un destro dalla distanza che non è controllato ed è il gol del vantaggio il vantaggio immediato ha segnato il numero 8 Andrea Lanzi dopo pochi minuti 1-0 possiamo dire che Code 272 anche attenzione al lancio lunghissime in area Borezzi deve soltanto spizzicarla con la testa totalmente dimenticato dalla difesa di Code 272 la Bacci fa subito ha fatto vedere lo scorso anno un elezione alla palla malamente persa Placido prende la mira ed è un raso terra killer quello di Placido che sorprende ancora Passeri 3-0 Bacci non si ferma più infatti palla fuori Averani un destro sforco il suo il mancino no invece perché è una super conclusione quella del numero 4 col piede opposto fa 1-3 e riapre una sfida che è spettacolare sin dall'inizio palla alla ruffa la ruffa il sinistro che passa per una papera di del proposto 2-3 di Code 272 la ruffa la riapre definiti sulla destra l'appoggio è buono a Placido si scambiano i due Lanzi carica il destro e il poker di Bacci Immobiliare è la doppietta di Andrea Lanzi una partita in stagione due reti non male 4-2 serve lo scambio veloce di Code con l'anello ancora per la ruffa super piazzato di la ruffa non si smette più di segnare al ceriaci 3-4 di Code 272 la doppietta di la ruffa Blingalanata vuole appoggiare col piatto la ruffa che si gira Lorenzo la ruffa la sua tripletta rimette ancora in parità la sfida 4-4 di Code 272 per la ruffa che stende la faccata la ruffa poi accorcia la corsa vuole andare al destro la ruffa passa sul primo palo il poker di la ruffa è il 5-4 di Code 272 non aver raggiunto le 10 presenze esordisce invece nella prima giornata qui attenzione perché la palla passa la calciata Cardinali dal settore destro è il 5-5 di Bacci Immobiliare chiama la solitudine di Tombesi che punta l'area entra Tombesi e di testa sul secondo palo il dole è tutto suo è di Emanuele Cardinali doppietta in due minuti del numero 7 che viene sotto la postazione ed esulta per il nuovo vantaggio di Bacci 6-5 serve Morezzi si chiude l'1-2 il numero 8 in area di rigore forse la chiude colui che l'ha aperta Andrea Lanzi e il gol delle 7-5 per Bacci Immobiliare poker ancora la ruffa serve Bungurà limite Bungurà alza sul pallone si gira Bungurà palla che passa deviata probabilmente da Cardinali è 6-7 di Code 272